La situazione è leggermente diversa all'interno del distretto, nel senso che mentre la situazione nella parte meridionale del distretto, soprattutto relativamente alle portate che riguardano Ponte Lago Scuro, quindi la parte finale, c'è sicuramente un miglioramento e una stabilizzazione per quanto sempre sotto la soglia critica, però sicuramente le piogge hanno favorito questa situazione nella parte più a nord ovest del bacino, gran parte della Lombardia e anche una bella fetta del Piemonte rimangono delle condizioni di grandissima criticità, per cui se da un lato c'è una situazione anche che riguarda la risalita del Cuneo Salino, di fatto migliorata rispetto a quelle grandi situazioni di difficoltà che abbiamo avuto qualche mese fa e quindi siamo attorno ai 20 km di risalita, sempre problematici ma non così critici, nella parte invece dei grandi laghi c'è una situazione che rimane assolutamente critica e che va tenuta sotto controllo, per cui anche le misure che si dovranno prendere saranno le stesse misure di fatto, noi così le stiamo proponendo, che sono state prese nelle condizioni più critiche del distretto.